La Sampdoria torna a vincere contro il Sassuolo dopo lo stop con l'Atalanta I blucerchiati sembravano ormai estromessi dalla corsa all'Europa ma l'ultima giornata di campionato ha restituito più di una speranza Torino e Fiorentina hanno perso mentre l'Atalanta ha fermato inaspettatamente il proprio cammino pareggiando contro il Chievo Adesso il settimo posto dista solamente tre punti Nel giro di una settimana tutto è cambiato, i blucerchiati hanno ripreso la propria marcia, la squadra è tornata a mostrare un gioco eccellente e la classifica è tornata a sorridere Il primo a chiedere uno sforzo in questo finale è proprio il tecnico Marco Giampaolo che mai come in questa stagione vorrebbe il salto di qualità Siamo lì 10 partite da giocare sono tante, possiamo dare un senso a questo campionato, possiamo ancora smentire chi ci vede in un percorso che poi declina puntualmente ogni anno Le sfide sono tante, 10 partite per inseguire il traguardo Europa e un calendario proibitivo nel mese che attende i blucerchiati dopo la sosta Milan, Torino, Roma e Genoa in rapida successione Per raggiungere l'obiettivo servirà dunque una Samp capace di andare oltre i propri limiti Da questi incontri i blucerchiati usciranno con maggiori certezze In caso di risultati positivi la Samp Doria tenterà il rush finale per l'Europa, in caso contrario dovrà accontentarsi di un piazzamento nella parte sinistra di classifica Nel girone di andata in questo poker di sfide la Samp guadagnò solo un punto nel derby Un ruolino di marcia che se replicato condannerebbe la squadra di Giampaolo a un finale di stagione anonimo Le speranze del tecnico sono anche riposte in Fabio Quagliarella Se il capocannoniere del campionato riuscirà a continuare con questo ritmo allora i blucerchiati potranno continuare a sperare Quagliarella se sarà competitivo da qui fino al termine del campionato per la classifica cannonieri Significa che la Samp sarà competitiva per un posto al sole Alessandro Bacci 6-8 6-9 7-9 7-9 8-9 11-9